Secondo appuntamento del nuovo talent show di Canale 5 in linea sicuramente con la stagione estiva, parliamo di Jump stasera a Mituffo condotto da Teo Mamuccare su Canale 5. Il talent è abbastanza seguito, dobbiamo dire ha un ottimo share perché comunque vede delle celebrità cimentarsi in questo sport dei tuffi. Ieri sera è andata male per Nadia Rinaldi che abbiamo trovato molto molto dimagrita ma purtroppo ha avuto pochissime preferenze ed è stata così eliminata. Molto bene tant'è che vanno in semifinale Bettarini, Corvaglia, Cabre Rizzo e Capriotti e Anna Falchi. Maddalena Corvaglia che è una bellissima donna e senz'altro un'ottima concorrente, sta molto bene, molto valida sia dal punto di vista atletico e anche quello fisico. Quindi ottiene sicuramente, otterrà sicuramente un ottimo successo, potrebbe anche vincere Mattatore della serata Paolo Bonolesi. Siamo abituati comunque a vederlo sempre e ad ascoltarlo con le sue battute spiritose e piccoli sketch che sono sempre molto apprezzati dal pubblico. Allora, siamo tutti davanti a questo talent molto interessante perché vedere comunque un personaggio noto tuffarsi da tre metri di altezza fa sicuramente spettacolo. Cosa pensate di questo nuovo talent? Vi piace? Pensate che i protagonisti sono all'altezza della situazione? Oppure è stato un azzardo un po' di Canale 5 questa trasmissione?